ciao a tutti io sono nell'irfa e oggi mi trovo su un new world oggi parlerò delle armi visto che ieri mi è stato chiesto più volte questa domanda quali armi ci sono disponibili in questo gioco quindi questo video parlerà delle armi poi altra cosa importante è che ho a disposizione una key da poter regalare per partecipare a questa beta del 25 agosto e durerà fino al 4 di settembre quindi se volete partecipare diciamo all'estrazione di questa key mettete un bel mi piace a questo video e naturalmente lasciate la vostra mail nei commenti qui sotto quindi come ho anticipato ieri qua non ci sono non esistono le classi ma la classe si determina andando a equipaggiare le varie armi che trovate all'interno del gioco al momento del lancio avremo queste armi spade a una mano martelli a due mani ascia da lancio bastoni a due mani fuoco e vita archi e moschetti e scudi si sono poi visti in giro degli screenshot con altri tipi di armi e potrebbero essere aggiunte dopo il lancio queste sono il repair a una mano spade a due mani grittax a due mani la polearm le lance le mazze i guanti magici le pistole e le torce un'altra categoria di materiali di consumo sono i rivestimenti per armi che forniscono danni extra contro alcuni tipi di nemici e possono essere fabbricati in un campo gli oggetti hanno anche fino a tre vantaggi con un punteggio di equipaggiamento più alto che aumenta la possibilità di ottenere vantaggi maggiori e migliori il numero di vantaggi determina anche la rarità degli oggetti che sono comune quindi non ha nessun tipo di vantaggio non comune ha un vantaggio raro due vantaggi e alla fine epico che ha tre vantaggi gli armi possono anche avere uno slot gemma oltre ai vantaggi le gemme possono essere create dal jewel crafter e forniscono ulteriori bonus come punti attributo extra ogni oggetto quindi anche le armi ha un peso diverso e il peso complessivo dell'attrezzatura determina se il carico dell'attrezzatura è leggero normale o pesante infine si potranno anche ottenere oggetti leggendari quindi armi leggendarie facendo magari arene pwe per esempio questi sono oggetti forniti con poteggio di equipaggiamento predeterminato vantaggi e gemme se avete ulteriori domande fatemene nei commenti ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti